Ciao a tutti, siamo la Boronessa e il Comandante Cova, siamo qui alla Fumetopoli e ora vi mostreremo un po' di cosa si tratta. Buona visione! Buona Fumetopoli, Comandante Cova e Boronessa. E' frigo! Buona Fumetopoli, Comandante Cova e Boronessa. 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 Ok, adesso vi salutiamo e andiamo a prenderci un pochino di ramen. Ciao ciao!